e allora? allora andiamo e bentornati sul nostro canale si ciao da Elisa ed Enrico oggi iniziano le nostre ferie estive primo giorno siamo partiti da poco con il van e vai prima tappa siamo sul lago di Garda precisamente a Sirmione andiamo a vederla insieme vi portiamo a vederla le paperette è la mia paperella i colori del tramonto ci danno il benvenuto a Sirmione che ci accoglie con il suo simbolo il castello Scadigero Illuminato dal quale si accede al centro storico passando su un ponte elevatoio e siccome siamo arrivati di sera iniziamo subito con la cena abbiamo trovato un ristorante tipico andiamo a mangiare andiamo a provarlo salsa verde, corregone in salsa a ciughe e capperi, aule in saor, trota in carpione il pesce davvero delizioso un pesce bianco molto delicato come sapore il sapore diventa questa salsa verde che è davvero potente mi piace molto poi insieme mi portano la polenta un po' di polentina lei è sempre un porto sicuro è sempre buona le acciughe e i capperi si sentono un sacco predormilano sul pesce buono e ora un must della cucina di questa zona non solo di Sirmione ma con tutti i territori qua intorno infatti l'avevamo mangiate anche a Padova mi sembra controllate anche voi se l'abbiamo mangiato in quel video lì oppure no questo tra i tre pescetti assaggiati è il mio preferito ma poi ragazzi sarde fritte, cipolle in agrodolce, pinoli, uvetta, vince a mani basse, tanta roba rettifico questo è il migliore di tutti è davvero un esplosione di sapore tra il sapore già della trota in sé che è tipo il salmone ma poi il carpione che è tipico del nord a me piace un sacco con i pinoli, l'uvetta ci sta belli insieme ma che belli totalmente inaspettato perché è uguale a una carbonara però al pesce c'è qualcosa di pazzesco ragazzi pazzesco dovete venire per forza qua a provarla questa fresca si sente che è fatta in casa è davvero di qualità le sarde sono saporite il giusto i pomodorini secchi danno quella nuota un po' croccantina e il pangrattato unisce tutto la perfezione nell'insieme è una bomba pesce neutro l'impanatura è sottile non tanto croccante prevale la salvia e ci sta davvero bene comunque tra tutti i piatti questo è quello che mi ha impressionato di meno è un po' più neutro forse perché il pesce è già un pesce bianco quindi semplice non ha avuto questo sapore tutti gli altri piatti erano molto più saporiti comunque è posto top dovete provarlo tutto molto buono mi è piaciuto tutto tranne il persico finale che dopo aver assaggiato tutti quei pesci così elaborati saporiti gustosi concludere con quello quindi vi consigliamo di prenderlo prima di tutti gli altri oppure non prenderlo e scegliete l'altro secondo me è meglio è un po' caro abbiamo pagato un pochettino però è buono per essere in centro diciamo che è in linea ci sta ora ci facciamo con una passeggiatina e poi andiamo nella nostra piccola casina dopo essere passati per una delle piazze principali un po' per sazietà e un po' per stanchezza facciamo un rapido giro in centro e andiamo a riposarci perché il giorno successivo ci aspettano tante cose belle tornati nella nostra casetta viaggiante si conclude questa prima mezza giornata a Sirmione ora a Nanna e poi domani andiamo a esplorarla come si deve a domani ciao iniziamo la giornata con una passeggiata rilassante in riva al lago al parco San Vito che in estate ospita anche concerti e spettacoli buongiorno per davvero dopo questa passeggiata lungo il lago siamo arrivati al castello Scaligero che visto di giorno è ancora più bello proviamo ad entrare e poi vi portiamo verso il centro storico e poi verso la punta di Sirmione andiamo purtroppo non siamo poi riusciti a entrare per la troppa coda ma già dall'esterno ci ha colpito tantissimo d'altronde è uno dei castelli italiani meglio conservati ed è uno dei pochi affacciato su un lago sul lato sinistro del castello cosa vi consigliamo di andare a vedere? lasciamo il castello alle spalle e percorriamo il centro storico in direzione della punta estrema della penisola di Sirmione e certo non possiamo esimerci arriviamo alla spiaggia del prete e alla passeggiata delle muse poi lasciamo il lungo lago e torniamo nel centro storico passando per la via delle antiche mura e fermandoci alla chiesa di Santa Maria Maggiore Sirmione viene definita la perla del lago di Garda e passeggiando per i suoi caratteristici vicoletti e per le sue piazze ben curate ne siamo sempre più convinti il borgo medievale è ben conservato piccolo e perfetto da percorrere a piedi in poche ore arrivati alle terme di Catullo ovviamente non c'è bisogno che ve lo diciamo noi Sirmione è famosissima anche per le sue terme noi abbiamo poco tempo non riusciamo ad andare purtroppo andate voi per noi riprendiamo il cammino e arriviamo a una bella villa di colore giallo che per anni è stata la residenza estiva della stella della lirica Maria Callas e ha un bel parco intitolato pure a lei poi se volete farvi il bagno termale gratuitamente perché avete poco tempo venite qua e troverete direttamente l'acqua bollente incandescente una ponte che viene da sotto le pietre e va direttamente dentro il lago e bollentissimo si che c'è lì? bollente brucia? si nelle vicinanze raggiungiamo il pontile di Sirmione al quale si può accedere dalla spiaggia al Lido delle Bionde poi ci immergiamo nella natura prima di arrivare alle grotte di Catullo e al museo archeologico Siamo arrivati alle grotte di Catullo ma troppo tardi perché abbiamo scoperto che lunedì chiudono all'una noi siamo arrivati all'una e mezza furbini siamo arrivati tardi ma non sapevamo niente ve le facciamo vedere in un altro modo insieme a Jamaica Beach sulla punta estrema della penisola domina l'area archeologica delle grotte di Catullo con i resti di una delle maggiori ville residenziali del nord Italia e subito sotto potete trovare la spiaggia Jamaica Beach questa zona di Sirmione è proprio da non perdere perché è un concentrato di punti di interesse e cose belle da vedere torniamo poi indietro verso il centro storico da dove tutto è iniziato e siamo arrivati finalmente da lui da Catullo qua vicino c'è anche il punto di partenza delle barche che vi fanno fare il giro di tutta Sirmione noi abbiamo poco tempo fatelo voi per noi ah questa è la coda ovviamente mamma mia scesi dal Pullman che è molto comodo dal centro storico vi porta poi leggermente fuori dove è più consigliato parcheggiare soprattutto se avete il camper noi siamo arrivati presto siamo riusciti a metterlo pure in un parcheggio bianco non abbiamo pagato abbiamo pagato solo 1,50 euro al Pullman molto comodo esatto quindi vi consigliamo di utilizzare il Pullman per andare verso il centro storico e niente questa bellissima esperienza Sirmione si conclude con Giovannino alle nostre spalle salutiamo il lago di Garda e ci spostiamo verso la prossima meta per non perdere tutti i prossimi video iscrivetevi al canale attivate la campanella così ogni volta che mettiamo un nuovo video glin vi compare speriamo che il video vi sia piaciuto mettete like seguiteci anche sui social alla prossima ciao buono su as 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 Grazie a tutti.